What did Todd do while you were there? Just a girl, just a girl. How are you, honey? This is our best friend, he's the paramedics. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Elisa e nei miei video racconto fatti di cronaca nera, eventi paranormali, teorie del complotto e in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Il caso di oggi è il caso di Todd Colhep. Il cognome è difficile da pronunciare, in ogni caso lo chiamerò Todd. È un caso particolare perché Todd è stato beccato dalla polizia grazie a delle reviews fatte su Amazon. Todd nasce il 7 marzo del 1861 in Florida. Todd è il figlio unico di una coppia che non ha mai avuto problemi fino alla nascita effettiva del figlio. Quando Todd infatti era ancora piccolissimo la coppia si separa, divorzia e la madre di Todd prende la totale custodia del figlio. Si trasferiscono inizialmente in Georgia dove trascorreranno 3 o 4 anni per poi trasferirsi definitivamente in pianta stabile in Carolina del Sud. La madre poi si risposa con un uomo che decide di adottare Todd che prenderà poi di conseguenza il suo cognome ovvero Colhep. Purtroppo Todd e il nuovo padre adottivo non vanno per niente d'accordo, Todd era sicuramente un bambino particolare, un bambino difficile da gestire. Aveva sviluppato una problematica abbastanza grande nel gestire e controllare la propria rabbia. La madre ha raccontato poi in seguito alcuni degli episodi di quando Todd era piccolo. In un caso Todd era a scuola, aveva 7-8 anni e una compagna di classe come penso sia capitato tutti di noi ha iniziato a prenderlo un pochino in giro per il taglio di capelli. A questo punto Todd prende delle forbici e le infilza praticamente nella gamba di questa ragazzina. Un altro episodio che a mio parere avrebbe dovuto tirare su qualche segnale d'allarme per i genitori, ovvero quando era piccolo Todd tendeva a diciamo riversare le proprie frustrazioni aggressive sugli animali. Intorno agli 8 anni Todd richiede a sua madre di comprargli un gerbillo che ho dovuto googlarlo perché non avevo mai sentito questo nome. È una sorta di criceto, non so perché sia differente da un criceto comunque, visioniamo un criceto. La madre non era assolutamente d'accordo e gli ha detto una cosa del tipo non ti comprerò un gerbillo perché hai già un pesciolino rosso. Todd quindi decide di versare della candeggina nell'acquario nel quale appunto stava questo pesciolino rosso e lo uccide. Inoltre aveva degli scatti aggressivi sia verso sua madre che verso il padre adottivo ma anche verso oggetti inanimati. Nel senso che ogni volta che la madre portava a casa ad esempio un divano nuovo, un quadro nuovo, un tavolino nuovo, Todd letteralmente lo disintegrava. Cosa che aveva diciamo costretto la madre a chiuderlo in stanza quando andavano a dormire proprio letteralmente a chiave perché aveva paura di quello che potesse fare mentre dormiva. All'età di 9 anni Todd viene internato all'interno di una clinica nella quale starà per soli 3 mesi. Durante le sedute con gli esperti appunto che avvennero in questa clinica vennero fuori non solo le fantasie molto aggressive e violente che Todd aveva ma anche delle fantasie sessuali estremamente violente ed esplicite considerando il fatto che era un bambino di soli 9 anni. Come ho detto prima dopo 3 mesi Todd uscirà dalla clinica e la prima cosa che farà una volta uscito letteralmente tipo qualche giorno dopo l'uscita della clinica è di sparare con una pistola che penso si chiama pistola d'aria. Quella che spara praticamente pallini di piombo, non so se è un termine più tecnico, hanno un cagnolino che poi morirà per le ferite appunto riportate. Secondo la madre in tutti questi casi, in tutti questi episodi Todd non ha mai mostrato segno di rimorso e di tristezza per quello che aveva fatto. Un altro tratto distintivo della personalità di Todd fin dalla tenera età, ed è una cosa che accomuna in realtà un sacco di assassini, si riteneva più intelligente sia a livello scolastico che a livello emotivo che a livello generale. Nel 1985 Todd viene a sapere che il padre quello biologico, che non sentiva praticamente da quando si erano separati i suoi genitori, ovvero da quando lui era piccolissimo, sia attualmente residente in Arizona. Decide allora di chiamarlo e di dirgli che non si trovava bene a casa sua, che il nuovo marito di sua madre era una persona violenta, non si trovava. E gli chiese appunto se potesse trasferirsi da lui. Il padre gli dà via libera, la madre gli dà via libera, probabilmente non vedeva l'ora di separarsi di sto peso. All'età di circa 15 anni Todd quindi fa armi e bagagli e si trasferisce dal padre, il quale però risulta essere un alcolizzato. E non solo, diciamo, avere una sorta di dipendenza dalle donne, diciamo così. Quindi ovviamente Todd non ricevette le attenzioni che forse si aspettava di ricevere dal padre. L'anno dopo essersi trasferito a casa di suo padre, Todd commise il suo primo vero e proprio crimine. Si era preso una cotta per una ragazza che viveva nel complesso di case nel quale abitava anche lui. Uno dei tanti problemi, oltre al fatto che questa non aveva nessun tipo di interesse nei suoi confronti, era il fatto che questa ragazza aveva anche un fidanzatino. Todd iniziò a farsi questa strana fantasia paranoia, non saprei come definirla, che se fosse riuscito in un modo o nell'altro ad andare a letto con lei, lei non avrebbe avuto scelta che fidanzarsi con lui. Todd quindi decide di presentarsi a casa di questa ragazza e dirle che il suo fidanzato stava aspettando a casa di Todd perché voleva dirle una cosa. La ragazza inizialmente si stranisce, dice perché non è venuto direttamente lui a dirmelo, ma Todd da bravo manipolatore qual era, la convince del fatto che in realtà il fidanzato si vergognava un po', quindi aveva chiesto a lui di andarla a chiamare. La ragazzina, che al tempo aveva solo 14 anni, si reca quindi con Todd a casa sua. Appena entrati, Todd però la lega, la imbavaglia e forzò un rapporto con lei. Una volta terminato di fare le sue cose, la libera e le dice di non dire niente a nessuno, altrimenti avrebbe ucciso tutti i suoi fratelli. Fortunatamente questa ragazzina trovò il coraggio di dire quello che era successo a sua nonna, che la portò subito dalla polizia, partì la denuncia e Todd venne ufficialmente arrestato. Todd finisce poi col confessare tutto quello che aveva fatto e alla fine del processo fu condannato a 15 anni di prigione. In prigione Todd era una persona totalmente diversa da quella nella vita diciamo reale, fuori dalla prigione. Era estremamente pacifico, non creava mai nessun tipo di problema, non litigava mai con nessuno, non rispondeva mai a nessun poliziotto, era come dire un po' il prigioniero perfetto. Questa sua buona condotta gli fece in realtà poi scalare due anni di pena, quindi in realtà restò in carcere solo 13 anni invece che 15. Esce dal carcere quindi a circa 30 anni e decide un po' di riordinare la sua vita, decide quindi di diventare un agente immobiliare. Ora per diventare un agente immobiliare, non so tanto in Italia, non sono esperta, comunque in America bisogna prendere una sorta di brevetto, bisogna superare una sorta di esame. E una volta ottenuto decide di fare un colloquio di lavoro per un'agenzia immobiliare della Carolina del Sud. In America quando commetti qualche tipo di reato sessuale, che sia molesti e che siano cose più gravi, vieni praticamente schedato e inserito in un registro al quale può avere accesso chiunque, cioè il tuo vicino di casa volendo può controllare se sei in questo registro o no. Quindi una cosa in realtà molto comune da fare nel momento di un colloquio di lavoro è ricercare appunto in questo database per vedere che la persona che stai assumendo non abbia dei precedenti. Anche l'agenzia immobiliare nel quale fece il colloquio di lavoro decise di controllare e ovviamente lo trovò e dopo avergli chiesto una spiegazione Todd diede tutta una visione un po' strana e fantasiosa della vicenda, tipo che in realtà erano fidanzati, poi lei si era pentita e quindi gli aveva dato la colpa e lui si era preso 13 anni di prigione. Fatto sta che probabilmente a causa di questa abilità manipolatoria di Todd se la bevono e lo assumono. Nel 2003 Todd commise il suo secondo vero e proprio crimine ma rimase irrisolto per 13 anni. Todd essendo che aveva un ego smisurato decise di volersi comprare la moto più figa, più grossa, più eccessiva che potesse trovare. Si reca quindi in un negozio di moto e compra una moto. In un secondo momento però si rende conto che non ha mai guidato una moto quindi non solo avrebbe avuto magari qualche problema a guidare una moto più piccola, figuriamoci una moto così grande, così insomma difficile da gestire. Quindi ritorna al negozio e chiede di poterla ridare indietro e di riavere i soldi perché non è in grado appunto di guidarla. A questo punto il personale del negozio inizia a schernirlo un po', niente di aggressivo però gli dice una cosa del tipo ma scusa non sai guidare, non hai mai guidato una moto e ti compri una moto del genere che tra l'altro costava anche un bel po'. Quindi si rifiutano di ridargli i soldi, di riprendersi la moto, fatto sta che Todd torna a casa con la moto due giorni dopo questa moto viene rubata. Torna allora al negozio per comprarsene un'altra, di nuovo il personale gli fa qualche battutina tipo sì qualcuno ti avrà rubato questa moto perché era troppo bella per essere gestita da qualcuno che non sa guidare una moto, una roba del genere. Inutile dire che Todd se la lega al dito e torna poi qualche giorno dopo al negozio con una pistola. Spara prima per quattro volte al meccanico dell'officina e in seguito colpisce e uccide anche il proprietario del negozio, la moglie del proprietario e un commesso. Dopo il fatto scappa e come vi dicevo prima questo crimine rimarrà insoluto per 13 anni. Ora facciamo un salto di un po' di anni, siamo nell'agosto del 2016 sempre in Carolina del Sud, Todd si è trasferito qui, continua a fare l'agente immobiliare, lì sta in realtà andando abbastanza bene a livello di affari e si sta vivendo la sua vita diciamo senza ripercussioni per i crimini commessi. Sempre nella stessa zona una giovane coppia composta da Kayla e Charlie si è appena trasferita, ha appena comprato la loro prima casa insieme, hanno entrambi un lavoro ma sono tutte e due alla ricerca di un lavoretto secondario part time per arrotondare un pochino. Kayla si ricorda di un certo Todd che appunto aveva incontrato per questioni relative proprio all'acquisto della casa e gli chiede se fossero interessati a farla lavorare in qualche modo part time. Al che Todd gli dice guarda, guarda caso stavo proprio cercando una persona che si occupasse di pulire e sistemare le case prima che i clienti le vadano a vedere. E gli dice anzi se hai un fidanzato ancora meglio vi assumo tutte e due. Fatto sta che Kayla e Charlie contentissimi di questa opportunità accettano volentieri. Le prime due esposizioni di case vanno senza proprio problemi, liscio come l'olio, fanno il loro lavoro, Todd arriva con i clienti, loro se ne vanno e vengono pagati. La terza casa della quale si devono occupare era un ranch praticamente in mezzo al nulla, in un posto anche abbastanza lontano. Però essendo che comunque era già la terza casa di cui si occupavano, non pensano a niente di problematico insomma, pensano semplicemente sia una casa, tipo una casa in campagna che debba essere appunto sistemata. Una volta che arrivano Todd è già lì, ma ovviamente senza clienti. Li fa entrare nella casa, gli dice di aspettare un attimo perché aveva appunto dimenticato qualcosa e una volta ritornato si presenta con una pistola. La prima cosa che fa è sparare a Charlie, che purtroppo muore sul colpo. Mentre per quanto riguarda Kayla, la lega, la imbavaglia, la trascina fuori dalla casa e la conduce in un container che era poco lontano dal ranch. In questo container purtroppo Kayla starà imprigionata per i successivi tre mesi. Kayla rimaneva la maggior parte della giornata all'interno del container legata. Mangiava una sola volta al giorno, poteva fare una pausa bagno una sola volta al giorno. Aveva a disposizione solo una bottiglia d'acqua al giorno che doveva farsi bastare per bere, per lavarsi e per tutte le altre cose che richiedono l'utilizzo dell'acqua. Todd si presentava da lei tutti i giorni, due volte al giorno, alla stessa ora, ovvero all'orario di pranzo e all'orario nel quale si stacca da lavoro, quindi probabilmente nelle pause che aveva dal lavoro. Due volte al giorno la prendeva, la conduceva in una stanza all'interno del ranch che era adibita un po' a stanza delle torture, c'erano dei materassi, delle catene, delle manette, insomma cose del genere. E dava sfogo diciamo ai suoi desideri sessuali. Ora essendo che comunque due persone erano scomparse, Todd pensa di prendere il telefono di Charlie e utilizzarlo per andare sui social, postare delle cose in modo da far sembrare che Charlie fosse vivo. Piccolo problemino, Charlie non postava mai, non aveva mai postato cose praticamente sui social, quindi da subito questa cosa stranisce amici e parenti. Che però all'inizio, essendo che di lui si avevano notizie, mentre di Kayla no, pensano che Charlie abbia fatto qualcosa a Kayla e che sia praticamente in fuga. La famiglia però dopo aver tentato più volte di contattarlo al telefono, essendo che ovviamente Todd non rispondeva perché altrimenti avrebbero capito che non era Charlie, contattano la polizia e capiscono che è successo qualcosa a questa giovane coppia. La polizia però pensa che non ci sia assolutamente nessun problema, niente di allarmante e che due persone adulte abbiano il diritto di non rispondere più o non parlare più alla propria famiglia se lo desiderano. Todd tra l'altro con i suoi social personali metteva anche mi piace agli annunci di sparizione di Charlie e Kayla. Un'altra cosa che faceva Todd è acquistare tutto il materiale che utilizzava per tenere imprigionata Kayla come catene, manette, corde, nastro adesivo e coltelli direttamente su Amazon. E qua arriviamo al problema principale. Come avete potuto immaginare Todd non era assolutamente molto più intelligente della media come gli piaceva credere. Inoltre non penso che avesse neanche un gran tipo di comprensione di internet perché era suo solito rispondere a commenti di altre persone tipo spiegando il suo amore per il deep web o per le armi, per infierire dolore e cose del genere. Tant'è che non solo Todd acquistava queste cose su Amazon ma scriveva anche delle recensioni. Ma non delle recensioni come una persona normale, cioè una corda robusta, fa il suo lavoro, ve la consiglio. Scriveva delle recensioni come questa. Non ho ancora tagliato nessuno, non ancora, ma mantengo il mio sogno vivo e quando lo farò davvero lo farò con un coltello di qualità del genere. Oppure ancora funziona bene, se qualcuno vi risponde male mettetelo in una calza e usatelo per picchiarlo. Non gli piacerà come piacerà a voi. Oppure ancora tenetela nella macchina per quando dovrete nascondere dei cadaveri e avete dimenticato quella grande a casa. Ora se capitasse a me di vedere un commento del genere su Amazon penserei a un troll, cioè a una persona che lo scrive tanto per, non so, far ridere. Per qualche motivo. Fortunatamente però molta gente ha iniziato a segnalare alla polizia questo utente. Ora la polizia ci mise molto poco a far 2 più 2 e a collegare il fatto che questo account era collegato a Todd, il quale era collegato non solo a un crimine appunto sessual di quando era piccolo, ma anche a due persone scomparse. Poiché l'ultima persona ad aver visto che lei e Charlie, che attualmente erano scomparsi, era proprio Todd. Ora indagando su Todd scoprirono una cosa sconcertante ragazzi. Todd aveva una vita parallela praticamente, ovvero aveva un'altra casa nel quale viveva con la sua compagna, dal quale aveva avuto un figlio che attualmente aveva 10 anni. Quindi la storia con questa donna continuava probabilmente da 12 anni, più di 10 anni sicuramente. La polizia rintraccia i cellulari di Kayla e Charlie e quindi individua il ranch, però non vogliono rischiare, essendo che presumono che Kayla sia ancora viva, non vogliono rischiare di spaventare Todd in modo che magari uccidesse Kayla e scappasse direttamente. Quindi decisero di organizzare due squadre, una che andò alla casa dove ufficialmente viveva Todd con la sua famiglia, con un mandato di perquisizione e iniziare a perquisire casa sua. Nel frattempo che questa squadra teneva occupata Todd, l'altra sarebbe andata al ranch e l'avrebbe ribaltato come un calzino e ispezionato per bene. A un certo punto la polizia sentì delle urla e dei colpi provenire dal container appunto che era a pochi metri dal ranch e notarono che il container aveva ben 5 lucchetti che si aprivano tutti con una chiave diversa. Quindi decisero direttamente di forzare l'apertura di questo container e legata sia per il collo che per le braccia al container trovarono Kayla. Sì. 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 La forza e il coraggio di questa donna. Dal video si vede che nel momento in cui la trovano, cioè uno penserebbe di trovare una donna completamente sotto shock, in uno stato di shock, invece è perfettamente controllata e la prima cosa che fa è raccontare tutto quello che è successo, raccontare cosa è successo a Charlie e dire tra l'altro che Todd gli aveva riferito non solo di aver nascosto il corpo di Charlie nelle vicinanze, ma di essere anche responsabile della sparatoria che era avvenuta 13 anni prima nel negozio di moto. E quindi grazie a Kayla che si riaprirà anche quel caso e Todd verrà condannato anche per quel caso. Kayla racconta tra l'altro dei dettagli decisamente, decisamente inquietanti. Todd, come vi dicevo prima, due volte al giorno chiedeva a Kayla di fare delle cose. Se Kayla si rifiutava, lui le diceva che non l'avrebbe forzata perché era contro la violenza, ma che nel caso in cui si fosse rifiutata non le sarebbe più servita, quindi l'avrebbe dovuto uccidere. Inoltre Todd le diceva spessissimo di resistere, di tenere duro, perché una volta che sarebbe entrata in atto la sindrome di Stoccolma, non so se tutti i conoscete, ma capita in certe situazioni quando la vittima si innamora, tra virgolette, non è proprio un vero e proprio innamoramento, però inizia a provare dei sentimenti positivi per la persona che la sta abusando o l'ha abusata. Quindi le dice di tenere duro che quando arriverà la sindrome di Stoccolma starà benissimo anche lei, che lei apprezzerà tutto quello che è successo e tutto quello che ha fatto per lei, inoltre che le avrebbe insegnato ad uccidere le persone in modo che potessero farlo insieme, partendo dalla sua attuale compagna e il suo figlio di 10 anni. Tornando invece a Todd e alla casa che è stata perquisita, ovviamente la polizia gli dice quello che è stato trovato, Todd si rifiuta di portarle il cadavere e fa un vano tentativo di dire no, no non c'entro niente, non so di cosa state parlando, mi serve un avvocato, questo è tutto quello che dirà. Poche ore dopo però Todd confessa e confessa vi dirò anche con un certo che di orgoglio, parlando inoltre del caso nel negozio di moto, cerca anche quasi approvazione dai poliziotti, gli dice ho aspettato che ci fosse poca gente, mi sono assicurato che non ci fossero altri clienti perché non volevo che altre persone rimanessero diciamo ferite. Inoltre sostiene che i rapporti avuti con Kayla fossero assolutamente consenzienti e anziché Kayla gli aveva fatto un sacco di complimenti, cosa che anche se fosse vera ci mancherebbe poverina rinchiusa, è ovvio che cercava di tenerselo buono in qualche modo, cioè prendiamoci conto e lui pensava mi ama. La polizia trova la macchina di Charlie e Kayla nascosta, più o meno nascosta diciamo così nella proprietà attorno al ranch, trova il cadavere di Charlie e purtroppo anche altri due cadaveri che si rivelarono poi essere i corpi di una coppia di nome Megan e Johnny. Johnny e Megan erano due ragazzi tossicodipendenti che avevano recentemente scoperto che Megan era incinta e avevano deciso quindi di cercare di cambiare le loro vite, di partire per il meglio, per il proprio figlio. Avevano quindi deciso di cercare un lavoro e si erano rivolte purtroppo a Todd che aveva attuato la stessa tecnica che ha attuato con Charlie e Kayla solo che a quanto sosteneva Todd, dopo aver sparato a Johnny, Megan era completamente uscita di testa tra virgolette, cosa giustificabile, cioè il tuo fidanzato è appena stato ammazzato di fianco a te e a Todd questa cosa dava molto fastidio quindi dopo 3-4 giorni aveva deciso di uccidere anche Megan. Inizia quindi il processo, Todd si dichiara colpevole, riceve dal giudice ben 4 pene di morte più un'aggiunta di 60 anni quindi ovviamente questo uomo non uscirà mai più di prigione senza possibilità ovviamente di uscire in libertà condizionata. Dopo questa condanna Kayla fa causa anche lei a Todd e riceve un rimborso di ben 6.3 milioni di dollari cosa che ovviamente non risolve niente, i soldi non risolvono assolutamente niente di quello che ha passato però 6.3 milioni di dollari sono tanti, quindi meglio di niente diciamo così. Tra l'altro altra piccola aggiunta di chiusura a questo caso, 2-3 anni dopo queste vicende Kayla è stata arrestata per violenza domestica verso il suo nuovo compagno. Questa era la storia di Todd Colhep e del modo in cui si è fatto beccare tramite recensioni di Amazon meno male per noi e purtroppo per lui, la tecnologia ha fatto grandi passi avanti. Vi ricordo di iscrivervi al canale se questa tipologia di video vi possono piacere. Noi ci rivediamo il prossimo venerdì con un altro video. Grazie a tutti.